Ok Dici, bravo, dici Eh, ma non ci guarda manco più in faccia T'ha a posto, bravo, t'ha a posto Eh Eh, beh, oh Quindi Bravo, che vuoi insinuare? Stati zitti Hai ragione, bravo Sparire? St'altro Una borsa Mmm Mo piange, bravo Mo piange, bravo Pisolino Buongiorno Buongiorno Oh, è bravo Scappato bravo Andiamo Messo Scusate Bravo Eccolo la, bravo Ehi, bravo Aspetta, bravo Fa di fretta Fa di fretta sto Ehm Ehm Aiuto Allarme 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 rossa Tapal Chiaro Tapal Maestro Geli E Eh Mamma mia Tutti Mamma mia Eccola Eccola Ma Mo si inizia a piangere Mettetevi in riga Smetti Forse è solo un'altra Eccola Ma questa è dittatura però eh Imperialismo Mamma mia Mamma mia Che occhi rossi ragazzi Mamma mia Che occhi rossi ragazzi Ah Non prevedo niente di buono qua Mmm Sono tutti? Sì Seconda sorella Seconda sorella Cerchiamo un pericoloso cogitivo Non è un comune anarchico Ma un devoto al sovversivo Ordine dei cedi Eh sì sono io Sono io Non consegnare questo traditore Sarà considerato un atto di ribellione Ma no dai Costituisciti O tutti i presenti Verranno condannati A esecuzione Somma Mamma mia Penso sia ora Che qualcuno si facciava No prof Dove vai? Io Ho lavorato a lungo su questa discarica Da prima della guerra Riparavamo e ricostruivamo navi Le migliori Poi è arrivato l'impero E gli ingegneri Divennero rottamatori E i laboratori Rottamatori anche loro Cominciarono ad essere sfruttati No no Prof Che cazzo stai di prof Ma tutti sappiamo la verità Stai ubriaco? Abbiamo solo Troppa paura Eh C'è ragione Su questo c'è ragione Prof Questo hai ragione Siamo tutti sacrificabili Sì Proprio così Oh mamma mia No Vai Ah Una spada laser Aia Eh ma questi giocano di squadra Mi hanno preso per un pallone Attenzione Meno male che Ciao ragazzi Buongiorno Buonasera Buon pomeriggio Non muoverti Eh Dall'alto Ah Tac Ok Bene L1 L1 per parare Ok Va bene Ok Sono rimasto solo io Mi sa di sì Ok Ok Mamma mia Ah M'ha preso Ok Ah Però adesso la difficoltà non sembra Non sembra Non sembra Non sembra Così tanto più alto Vabbè questo è ancora un tutorial Comunque Quindi Una via d'uscita Eh Vediamo Sì dicevo poi dobbiamo vedere più in là magari Quando inizia davvero il gioco Semplice tutorial così Tasti Ciao raga Ok Mi preparo così Scusate Aspetta un attimo Ok Aiuto Bene Oh Aiuto Ah Cazzo Aiuto Sto morendo raga Ok Cazzo sto morendo Ehm Rallento Ma chi? Dove sta questo nemico? Eccolo là Ok Sali 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 Mbecillone Ok Spena un attimo Eh raga Que' tosta Mi bastano pochi colpi Mori un attimo Sul favore Non mi direi niente Ok 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 Andiamo Va bene Dove Spena un attimo Ok Ah Ma per ora Se può fa' Se può fa' Se può fa' Se può fa'